Musica Ci troviamo al ristorante Carmagnini del 500 per la premiazione Giglio d'Oro che nel 2020 a causa della pandemia non si è potuto fare verrà premiato Andrea Baggioli come promessa del ciclismo siamo qui con Saverio Carmagnini gli appuntamenti saranno uno dietro l'altro perché poi il 15 ci sarà la premiazione per la 48esima edizione però era giusto non interrompere il filo Sì, noi abbiamo fatto di tutto per poter consegnare i premi che scadono perché la rivelazione dell'anno fra i neoprofessionisti che appunto Andrea Baggioli è un premio che quest'anno sarà differente quindi sarà un altro atleta a riceverlo e di conseguenza abbiamo fatto in modo di poterglielo dare e che non fosse nella stessa giornata dell'edizione del 2021 quindi siamo molto contenti di dare ad Andrea Baggioli questo riconoscimento è la rivelazione dell'anno fra i neoprofessionisti quindi memore al Gastone Nencini è l'auspicio di questo giovane che è già proiettato diciamo nell'Olimpo dei grandi atleti perché lo sta dimostrando e anche quest'anno è andato molto bene Dobbiamo dire che la commissione del Giglio d'Oro è sempre attentissima ogni anno nel seguire i giovani e soprattutto nel capire quanto possono offrire ancora il ciclismo Sì, la cosa bella di questo premio è che la commissione è a tutela di un percorso perché i premi sono già stati predisposti quindi c'è solo da individuare eventualmente quale può essere il premiato in quell'occasione ma con una ragione precisa la ragione precisa invece questo premio ed è la forza di questo premio ce l'ha nella classifica cioè il primo, il vincitore della classifica a Giglio d'Oro viene scaturito da tutti i piazzamenti o le vittorie nell'arco dell'anno sia sulle gare nazionali che internazionali questo scaturisce un punteggio e quindi viene fuori il premiato è sempre successo che questa classifica dà il numero uno della stagione non ha mai sbagliato una virgola quindi è un premio che si è rivelato da un punto di vista tecnico molto efficiente, efficace e ai premiati è un premio che piace perché è un premio tecnico fra l'altro con tutti i risultati che poi ci sono delle sottolineature legate alla stampa, alla televisione e quant'altro Siamo alla 47esima e il 15 novembre sarà la 48esima edizione ci può già anticipare qualcosa per questa nuova edizione? Allora, l'anno 2021 è già concluso da un punto di vista ciclistico per cui il vincitore della 48esima edizione è già saltato fuori ed è Sonny Colbrelli che fra l'altro riceverà due premi perché è anche campione italiano e nel nostro statuto, nel nostro percorso è previsto anche la consegna del premio legata al campione italiano ma Colbrelli ha vinto la classifica di questo premio e va ad aggiungersi a tutti quei grandi campioni che sono legati al vincitore della classifica 48esima edizione, Sonny Colbrelli Ormai ci avviciniamo alla cinquantesima i numeri pari sono un grande appuntamento ci può anticipare già qualcosa? Ha già qualcosa in mente? No, sono fiducioso ma un pochino anche preoccupato perché raggiungere questi obiettivi non è uno scherzo però insomma siamo molto contenti del raggiungimento di questo traguardo non era assolutamente pensabile quando l'abbiamo fatto la prima volta e insomma è un premio che nasce pedalando come ha scritto Alfredo Martini alcune volte su alcuni suoi notiziari e devo dire grazie a Vasco Baroni che insieme a me parlavamo di questo premio poi abbiamo coinvolto Alfredo Martini Gastone Nencini Franco Calamai per quanto riguarda la stampa tutti i grandi personaggi di allora che fino alla prima edizione insomma hanno aderito a questo percorso non pensavamo ad arrivare a tanto però il premio è nato bene consideriamo che Mosella ha vinto nove volte Saroni tre e Nibali sei volte Andrea Baggioli viene premiato oggi come rivelazione del 2020 ecco cosa ci puoi dire di questa stagione 2020? Il 2020 è stata la mia prima stagione da professionista e sinceramente non mi aspettavo di fare una stagione così con due vittorie quindi sono molto contento Qual è stato l'impatto più difficile la cosa che hai riscontrato di diverso rispetto agli Under 23? Ma sicuramente il ritmo in corsa è completamente diverso e si è anche un modo di correre un po' diverso nel senso che quando va via la fuga il gruppo si calma un attimo poi inizia a tirare piano piano invece di Under era più una corsa tutta all'attacco con scatti contro scatti Far parte di una squadra diciamo numero uno al mondo come quella a cui partieni diciamo ti implica grossi problemi rispetto alla libertà che potresti avere in un'altra squadra? Ma secondo me no perché alla fine anche in questa squadra quando vedono che un corridore sta bene in forma in quel periodo cercano di lasciargli il proprio spazio Quanto ti è servito essere vicino ad atleti come quelli che hai come compagni di squadra? Sicuramente tanto avere grandi campioni al proprio fianco rendere le cose magari un po' più semplici perché sono corridori che sanno come correre sanno come insegnare il lavoro del ciclismo quindi secondo me ha fatto molta differenza Torniamo al 2021 Il 2021 è stato un anno che la prima parte l'hai persa tutta per un infortunio però nella seconda parte diciamo che hai confermato quello che avevi fatto vedere nel 2020 Sì esatto come ho detto tu ho perso i mesi da marzo fino a luglio per un infortunio al ginocchio dopo una caduta alla gueglia però dopo sì mi sono ripreso e sono ancora riuscito a correre la guelta europeo e mondiale quindi è andata bene così Prospettive per il 2022? Magari quello di vincere una corsa a world tour poi vediamo dobbiamo ancora fare i programmi con la squadra e vediamo man mano Ti ritieni più un corridore da gare in linea o da gare a tappe? Nel tempo naturalmente? Per ora dico da gare in linea perché ho fatto due volte però visto che far classifica per ora non è per me quindi mi ritengo più magari classiche di un giorno come Freccia, Amstel o Liegi Classiche in Belgio? Esatto, Ardenne Allora ti aspettiamo ti auguriamo un grande 2022 Grazie mille Laura Maggia Assessora allo Sport del Comune di Calenzano dobbiamo dire un comune che fa molto per il ciclismo e la dimostrazione che ci sia anche maleditazione come il Giglio d'Oro dimostra che il ciclismo è particolarmente sentito da voi Sì ma sicuramente è sentito è quasi un dovere che sia sentito da parte dell'amministrazione perché è legato dalla storia al mondo del ciclismo qui è nata la Fosco Bessi da Don Milani qui abbiamo avuto è nato Martini quest'anno ricorre il centenario e quindi voglio dire per un comune come il nostro è molto, è tanto abbiamo questa ci portiamo questo bagaglio che dobbiamo ricordare e incentivare ora abbiamo anche il nuovo presidente della Federazione Toscana Ciclismo che è di Calenzano e quindi abbiamo un giovane talento come Tommaso Nencini fra i nostri ragazzi che è nato nella Fosco Bessi e quindi l'amministrazione questo ne è cosciente e cercherà in tutti i modi di supportare agevolare il mondo del ciclismo i giovani ragazzi che si vogliono avvicinare a questo bellissimo sport Per il ciclismo sono fondamentali anche le strutture le piste ciclabili sappiamo che Calenzano si sta muovendo anche in quest'ottica Certo, abbiamo consegnato da meno di un anno rientrato fra le celebrazioni del centenario di Alfredo Martini un anello alla Fosco Bessi dove i giovani i giovani ragazzi i giovani bambini si possono allenare è un anello in via del Colle più a Calenzano che è già molto sfruttato sia appunto dai giovani atleti e poi dalle famiglie negli altri giorni ma questo è solo l'inizio perché ci sono dei grandissimi progetti all'interno del Parco delle Carpugnane che abbiamo sviluppato proprio insieme al mondo della federazione del ciclismo e alla Fosco Bessi per cercare di come dicevo prima supportare e portare il ciclismo qui a casa nostra dove appunto è nato sono nati personaggi importanti e dove c'è una storia importante a Calenzano o in tutta la Toscana direi grazie ed ora sentiamo Saverio Mette presidente del comitato regionale toscano mi sembra che manifestazioni del genere in Italia ce ne siano veramente poche che raggiungono la 47esima e tra poco la 48esima edizione quindi una soddisfazione in più come presidente regionale e a questo punto anche come comitante di Calenzano sì questo è un premio che è uno degli ultimi rimasti credo anche il più importante a livello su tutti i livelli perché poi premia tante categorie che concorrono credo che la commissione sia molto qualificata perché tutti gli anni vengono fuori dei nomi che poi fanno la storia del ciclismo e quindi credo che anche Andrea Baggioli che in questo caso era il premiato dei professionisti sia quello che sicuramente sentiremo parlare nei prossimi anni credo che poi come tutte le cose noi come federazione dobbiamo anche incentivare perché dobbiamo portare sempre più persone a diventare neoprofessionisti quindi cercheremo dal basso di ripartire dando la possibilità appunto con infrastrutture ma anche con iniziative di poter cercare di aumentare il numero degli atleti che fanno questo splendido sport io credo che la pandemia ci abbia aperto una porta che è quella che lo sport all'aperto e comunque lo sport fatto in modo individuale sia quello da percorrere quindi il ciclismo ora deve prendere questo viatico e sono sicuro che lo faremo e a questo punto dal ristorante Carmagnini del 500 per la 47esima edizione del Giglio d'Oro è tutto l'appuntamento è il 15 novembre per la 48esima edizione per la 48esima edizione